Bentornati all'appuntamento con i 90 secondi di Pistocchi. Questa settimana dedicato ai due big match in programma nella tredicesima giornata di campionato. Cominciamo da Lazio Juventus, Sarri contro Allegri, due allenatori completamente diversi, completamente all'opposto, tra i quali c'è sempre stata anche una velata polemica, ricorderete quando in difficoltà per il gioco scintillante del Napoli, Allegri fece quella famosa invettiva contro il calcio spettacolo, dicendo testualmente dopo una vittoria per 1-0 in una partita molto mediocre, chi interessa allo spettacolo va dal circo, come se il calcio non fosse uno spettacolo, è anche molto costoso per chi va allo stadio. Partita molto interessante tra due squadre che in modi diversi sono in crescita. La Lazio è cresciuta sul piano del gioco, oggi la palla va molto più veloce e cerca di più di avere un'intensità con la palla. La Juventus invece è la Juventus di Allegri, si difende bassa e gioca in contropiede e avendo dei grandi difensori e dei grandi giocatori diventa spesso mortifera. Vedremo l'altra partita in programma è quella tra Inter e Napoli, una sfida decisiva soprattutto per l'Inter. Se l'Inter vince accorcia le distanze dalla testa della classifica, se l'Inter perde o pareggia il suo distacco potrebbe diventare incolmabile. In questo momento l'Inter, anche a causa delle assenze, è più in difficoltà del Napoli di Spalletti che andrà, secondo me, a San Siro a fare la partita. Alla prossima!